Io che sono... ... Sì! 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 Mironi, qual è il figlio? MC.Vanilexperience.it Dio bono Ehi! Eroni! 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 Non scappare, non ti aiuterò Sì! NO! OHHHH! Mi fanno che io non mi usci due ore. Mi fanno che io non mi usci due ore. Oh! No! No! Nonono! Roni! 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 Ok, basta. No! 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 RONI! 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 Aspetta, aspetta, ho un'idea, ho un'idea, 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 Fox, fai una scalinata enorme. Mi facciamo credere che stanno cadendo nell'acqua e poi io e Fox copriamo tutto. Le barriere, le barriere! Ok, ho un'idea, ha magli estremi, estremi rimedi. Qualcuno ha visto qualcosa, io no. E uno, due, e un, due e tre. Ok. 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 Grazie a tutti